Lo vuoi comodo, ma di design? Né troppo duro, né troppo morbido? Allo stesso tempo naturale e tecnologico? Sempre fresco, ma traspirante? Il mix perfetto per chi vuole dormire bene è Mojito! L'innovativo materasso in memory foam a quattro strati di BaldiFlex. Oggi Mojito è tuo con un cuscino in omaggio per ogni piazza. E cento notti di prova, perché se non sei soddisfatto, sei rimborsato. Con finanziamento a tasso zero e reso gratuito. Circa subito in materasso Mojito su BaldiFlex.it